commento al vangelo secondo matteo 22 15 21 ecco ricordatevi che la mia non vuole essere un esegesi precisa del testo in quanto ne trovate a centinaia ecco e ne ho a volte alcune suggerite alcune la mia vuole essere più un commento spirituale nato dall'esperienza dall'esperienza quotidiana e della missione proprio snocciolare un po il vangelo nella vita di tutti i giorni questo è il vangelo del tranello a riguardo del tributo a cesare da versare o non versare che viene posto a gesù e si riflette chiaramente le nostre vite tutti quei tranelli quotidiani che ci capitano ogni giorno la mattina pomeriggio la sera andando al lavoro sono tanti e che cosa insidiano insidiano direi la nostra pace la nostra serenità e la nostra gioia di vivere la cosa più importante della nostra vita è la felicità no noi stiamo al mondo per essere felici e non è sempre così facile mi rendo conto tante persone ci raccontano ovunque nei telegiornali nei giornali nelle notizie che non vivono una vita felice ma una vita di sacrifici di dolore eccetera eccetera invece la vita deve essere felice tutti noi la vogliamo in pace serena allegra felice ricca degli affetti tutto questo a volte subisce un insidio almeno per la mia esperienza tento di regolamentarla come con la meditazione con la preghiera con una vita serena una vita fatta di relazioni importanti preziosi ecco però quotidianamente mi capita che esco in macchina magari faccio un parcheggio fatto strano vengo insultato parto tardi al rosso e vengo sgridato mi è successo un siparietto su un aereo in cui uno steward portonando dalla polonia di recente poco simpatico ha accusato una bambina poco avanti al nostro poltrono dove il padre ha reagito male e dal nulla da un viaggio di vacanza probabilmente per tutti è nato un piccolo putifere dove io ho voluto prendere un po' le difese di questo papà magari sbagliando ecco però per dire come veramente nel momento che meno ci aspettiamo può subentrare la nostra quotidianità quello che è un tranello e come Gesù risponde al tranello è straordinario Gesù risponde come tenendo il centro il centro di se stesso lì senza impulsività questo non vuol dire non avere sentimenti ma vuol dire avere ben chiaro qual è la nostra missione quindi se la nostra missione è la felicità è la serenità ed è la pace non dobbiamo mai mentalmente staccarci veramente da questo cammino ricordarcelo ogni giorno prenderci almeno un momento nella nostra giornata mattino pomeriggio e sera per dirci ok sono in pace voglio stare in pace quali saranno le sfide che mi verranno oggi un nipote che urla un figlio che piange un viaggio dove troverò tanta coda essere preparati a quel momento trovare un escamotage per comunque mantenere la nostra relazione con Gesù con la serenità con la gioia che questa sua presenza mi dà nella mia giornata per poter essere veramente portatore di allegria perché quando qualcuno ci incontra comunque incontra gioia entusiasmo ed energia buon cammino non è vero